Sta per calare Sipario sulla terza edizione della rassegna di teatro amatoriale di Arte in Festival. A chiudere questa vetrina di spettacoli entusiasmanti e coinvolgenti sarà questa sera la compagnia di Arca di Trevi con la commedia C'è pensa mamma. L'esibizione è come al solito in programma per le ore 21 nel cortile di Palazzo San Francesco. Ieri sera invece è stata la volta della premiazione del concorso letterario Universo Donna che ha valorizzato poesie e testi elaborati in generale che ribadiscono oggi un diritto che nel 2014 dovrebbe essere scontato alla parità di genere. Sin dalla prima edizione abbiamo voluto abbinare al concorso del teatro quello della letteratura per completare i vari linguaggi per esprimere i propri sentimenti. C'è il teatro e ci sono le parole raccontate e le parole in versi. E' molto gratificante far parte della giuria perché leggendo attentamente tutti gli elaborati ci si arricchisce di sentimenti e di esperienze. Quanti sono i premiati e quali criteri avete utilizzato per valutare i singoli elaborati? Beh, innanzitutto i sentimenti che ci hanno colpito e poi naturalmente la struttura sia della poesia sia dei racconti dal punto di vista grammaticale e dello stile. Dopo la premiazione dello spettacolo della compagnia Rihanna, l'amica del cuore, anche questo tutta femminile, protagoniste quattro ragazze che hanno mostrato tutti i modi dell'essere donna. La donna al centro di questo spettacolo fuori concorso, nella rassegna di teatro amatoriale dell'Arten Festival, quale immagine di donna avete proposto questa sera? Veramente abbiamo proposto tante sfaccettature delle donne, la gelosia, l'invidia, poi la solidarietà femminile, il desiderio di emergere. Si chiude dunque una bella e significativa parentesi per la città di Sulmona, carica di spettacolo, divertimento e aggregazione sociale. Anche il bilancio di questa terza edizione dell'Arten Festival è positivo, ha dichiarato la presidente e regista dell'Arianna Marisa Azzurlo. Non vorrei mettermi nei panni dei giurati, che avranno ora un bel da fare. Ci sarà la compagnia che proviene da Trevi, in provincia di Perugia, con una bellissima commedia, C'è pensa mamma. Tutte le sere sono state rallegrate da compagnie veramente bravi, con degli attori che hanno saputo far ridere, interessare gli spettatori che sono stati ogni sera sempre più numerosi. Di questo noi siamo orgogliosi e speriamo che questo evento, noi ce la mettiamo tutta, quindi per la passione che abbiamo sicuramente già cominciamo a lavorare per la quarta edizione dell'Arten Festival.